Da più di una settimana ormai i cybercriminali tengono sotto scacco la ASL 1 dopo l'attacco hacker sferrato al sistema informatico e che ha paralizzato in pratica tutta l'attività ospedaliera. E per dimostrare che fanno sul serio hanno pubblicato sul Dark Web, porzione di internet sommersa, una seconda tranche di dati sensibili con due lettere specifiche. Una inviata al manager Ferdinando Romano, al presidente della regione Marco Marsilio, in cui si chiede sostanzialmente di trattare con loro e pagare il riscatto. La seconda, missiva invece, è indirizzata agli abruzzesi con un elenco di nomi e cognomi pubblicato in cui si invitano le persone a cercarsi e ritrovarsi nell'elenco stesso e a intraprendere eventuali azioni legali di risarcimento, cosa che potrebbe essere a questo punto anche plausibile. Marsilio è stato perentorio, non si pagherà alcun riscatto, che potrebbe ammontare a milioni di euro mentre va avanti l'indagine condotta anche dalla distrettuale antimafia e antiterrorismo dell'Aquila e mentre la polizia postale e la tasforza di esperti nazionale continuano il lavoro tecnico. Sul dark web sono comparsi altri 24 giga di dati sensibili che si aggiungono al primo gruppo, riferibili a vari reparti al centro tra pianti. I cybercriminali, chiedendo il pagamento del riscatto, annunciano che sarebbero in grado di ripristinare il tutto entro poche ore, anziché andare avanti così sprecando mesi e soldi. Dal punto di vista dell'azienda, piano piano si cerca di ripristinare i servizi per non arricare ulteriori disagi ai pazienti, ma le problematiche sono ancora enormi. Il CUP è ripartito, come si stanno riattivando pian piano altri servizi. L'ASL nel suo sito ha creato anche una sezione apposita dove si danno tutte le informazioni utili. Di certo si tratta di un attacco senza precedenti, che potrebbe allargarsi a macchia d'olio anche in altre ASL. Questa è la preoccupazione maggiore.